Ma chi, mette la mano e si attacca? Si accende? Per me ti stai assaggiando, ti fa tornare a tre e pezza a quattro. Pure io voglio andare una volta su le foto di Carmine Germano. Ma che vuoi nascondere? Non ci sono tutti, Carmine Germano è pubblicato. Tu fai il medio o fai? No, come devi fare il medio? Ma insomma... No, no, non è finito. Arrivò io, lo puoi decidere. Dai che arriviamo tutti quanti qui io. Poi, sei un casco. Oh, la foto, non la faccio? Oh... Oh! E coglioni che sei! Che sei che non l'era... No, ho portato la cosciata a leggerà. Oh, è benvenuto. Allù... Grazie a tutti.